Perché in queste serate in cui ci sono un po' di rappresentanti chiedo anche una parola, una testimonianza che dica anche quello che si è vissuto proprio anche dal cuore. Quindi, chi chiami? Pierangela, ecco parla a nome di tutta la rappresentanza qui della scuola e dell'università. Sono un'insegnante di religione cattolica alla scuola primaria Santa Rita dell'VIII Istituto Comprensivo di Padova. È difficile per me sintetizzare la complessa realtà in cui noi docenti siamo stati catapultati per l'emergenza Covid-19. Una realtà che nel giro di pochi giorni ci ha imposto modi diversi di vivere, di pensare e di lavorare. In breve tempo siamo stati costretti a rivedere e modificare metodologie, strategie, tempi e strumenti di lavoro. È stata un'esperienza faticosa, emotivamente e fisicamente, ma grazie al sostegno e ad una sperimentata alleanza con le famiglie, anche straordinaria, ci ha fatto comprendere una volta di più, come dice un proverbio africano, che solo insieme si può andare tutti più lontano. Grazie Grazie Grazie